Salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata di approfondimento sull'Ucraina, su Liberi Oltre le Illusioni. Sono con Ludovico Zanette, il coordinatore della redazione ucraina, è uno dei principali contributori su Liberi Oltre, degli approfondimenti sull'Ucraina, sia dal punto di vista politico che da quello culturale, come per esempio uno degli ultimi contributi su una mostra ad alta che si terrà a Milano, che trovate sul canale Agora, Ludovico è uno dei principali autori di debunking su Liberi Oltre e di recente ha pubblicato un articolo che è di fondamentale importanza per mettere in prospettiva quello che sta accadendo e quello che accadrà in particolare data la variabile dell'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e le aspettative su quello che accadrà a gennaio. Parliamo dei negoziati fra Russia e Ucraina, in particolare parliamo di una serie di miti della propaganda russa, ma anche spesso involontieri della stampa occidentale, sui negoziati fra Russia e Ucraina. Ludovico ha scritto un articolo che trovate sul sito intitolato Davvero i negoziati fra Russia e Ucraina furono sabotati dall'Occidente tra realtà e propaganda? L'articolo, lo chiarisco, si focalizza appunto sui negoziati che partono dall'invasione in poi realtà, quindi ci focalizzeremo sul 2022, non ci focalizzeremo sull'intera storia dei negoziati, ma Ludovico poi ci chiarirà perché è importante focalizzarsi proprio sull'inizio di questi negoziati perché troviamo moltissimi elementi che ci aiutano anche a capire non tanto quello che accadrà ma ad avere aspettative realistiche su quello che accadrà e soprattutto leggere correttamente quello che accadrà. Direi che possiamo partire, ringrazio di nuovo Ludovico per aver scritto l'articolo e per la disponibilità a registrare. No, grazie a te e grazie anche a chi ci ascolta. Sì, come dicevi tu, il focus dell'articolo sono i negoziati fra Russia e Ucraina della primavera del 2022. Da circa due anni ormai, con periodica insistenza, riemerge nel dibattito pubblico un po' questa idea che Russia e Ucraina nella primavera del 2022 sarebbero state molto vicine a concludere un accordo che avrebbe messo fine al conflitto e che questo accordo sarebbe stato sabotato dalle pressioni occidentali. Ecco, questa narrativa è stata più volte promossa anche dai media di regime russi, dal Cremlino stesso nel tentativo un po' di imputare la responsabilità della continuazione del conflitto all'Ucraina e ai suoi alleati. Vediamo che in questo ci sono un po' due sub-narrazioni, se vogliamo. Cioè da un certo punto di vista c'è il tentativo di darne la responsabilità all'Ucraina per attribuire le responsabilità del conflitto all'Ucraina. In altri casi c'è invece il tentativo di dipingere l'Ucraina un po' come un ostaggio e una vittima di una guerra per procura dell'Occidente contro la Russia. Fa specificato che quasi sempre i sabotatori in queste narrazioni sono, per usare il gergo del Cremlino, gli anglosassoni, no? Gli anglosassoni. Non posso ridere che viene usato questo termine, che ovviamente ci riferiamo a Regno Unito e Stati Uniti. Quindi quello che cerca di fare questo articolo è mostrare come in realtà, nonostante le negoziazioni fossero ovviamente in corso e avessero magari fatto anche alcuni progressi su certi punti, le parti erano tutt'altro che vicine o pronte a firmare un accordo. Non solo, le bozze dei documenti che sono emerse nell'ultimo anno mostrano come non ci fosse accordo tra le parti su molti punti e su come queste bozze in realtà non coprissero alcune delle questioni che avrebbero dovuto essere discusse per poter mettere fine al conflitto. E come anche il fallimento di queste trattative abbia in realtà poco a che fare con un sabotaggio occidentale, ma sembra invece da imputarsi almeno a tre fattori. Da un lato l'inconciliabilità delle richieste di Russia e Ucraina, dall'altro una certa malafede mostrata da parte russa nel corso delle negoziazioni e infine la debolezza delle condizioni e delle garanzie messe sul tavolo a tutela di questi accordi. Questi sono quello che l'articolo cerca di mostrare. Perché fare questo articolo adesso? Perché nel corso dell'ultimo anno sono emersi le bozze originali di diversi documenti che fino a un anno fa ad esempio non erano disponibili. Prima erano quasi tutte speculazioni basate sul sentito dire di questo e di quello. Mentre ora abbiamo a disposizione le bozze pubblicate da New York Times, da Foreign Affairs, da Medusa, che mostrano i documenti che le due parti hanno discusso e che si sono scambiate nel corso delle negoziazioni. L'altra cosa importante da dire è che, come abbiamo detto, sono le negoziazioni da inizio invasione fino a aprile 2022. Perché quello è stato il principale tentativo di negoziazione fra le due parti. Da lì in poi non siamo a conoscenza di altri tentativi altrettanto seri o altrettanto, diciamo, intensi. Questa è l'altra cosa che va ovviamente chiarificata sul perché ci concentriamo su questo periodo specifico. Ed è anche fondamentale chiarire che proprio queste negoziazioni sono proprio la chiave di volta di un certo tipo di narrativa. Perché è ovvio che se la narrativa è che la Russia si era mossa per difendere i propri diritti, ma con l'intenzione di negoziare e che l'Ucraina fosse in parte disposta a farlo, ma l'intervento occidentale è stato quello che ha innescato la proxy war, la guerra per procura, chiaramente questa è una grossa fareta nella freccia della narrativa. Per cui, da un lato, insomma, l'Ucraina a volte viene dipinta come un soggetto prepotente, che è prepotente sia verso la Russia che verso gli alleati occidentali. Quindi dove si chiede di soddisfare tutte le richieste. Dall'altro c'è la narrativa dell'Ucraina come soggetto privo di soggettività in realtà, che è una marionetta nei confronti degli occidentali. Uno degli elementi interessanti, insomma, della raccolta di dati che Ludovico ha fatto è che proprio riesci a individuare dei momenti in cui si verifica questa contraddizione, dove da una parte a volte l'Ucraina è troppo soggetto, dall'altra parte l'Ucraina non è un soggetto ed è semplicemente un burattino. Quindi lo vedremo poi nel corso dell'analisi. Sì, volevo aggiungere un paio di punti, uno di tipo logistico. Mettete like e commentate. Questo ci permette di divulgare meglio i nostri contenuti, ma soprattutto io sfido chiunque, insomma, ascolterà, visto che spesso i commenti che arrivano sotto i nostri video sono anche di critica, a criticare sul piano delle fonti. Nell'articolo che trovate sul sito e che trovate nella descrizione del video, tutto è corredato da fonti. Fonti che vengono sia dalla grande stampa internazionale, sia riferimenti direttamente alle leggi dello Stato ucraino, sia riferimenti a queste bozze, i documenti sulle negoziazioni. Trovate anche testi, come appunto il libro Our enemies will vanish di Yaroslav Tlofimut, The Wall Street Journal, che dettaglia la storia delle negoziazioni e così via. Quindi noi non citeremo tutte le fonti in tempo reale, ovviamente, ma trovate tutto e veramente, visto che è un video di The Banking, sfidiamo chiunque a contestare quello che emergerà da questo video, cioè che è fondamentalmente una certa malafete da parte russa fin dall'inizio, oppure, se la vogliamo mettere in maniera più delicata, un'inconciliabilità di fondo fra le posizioni e i punti di partenza negoziali dei russi e degli ucraini. Quindi partiamo, Ludovico, dall'inizio, ti lascio la parola e poi ti interrompo per qualche domanda mentre andiamo avanti. Sì, l'altro, grazie Andrea, l'altra cosa da dire ovviamente nel raccontare di questi negoziati è che spesso si pensa ai negoziati come questa cosa che avvengono in un certo momento e si esaurisce, ma in realtà è un processo che dura diversi mesi, in forme diverse, incontri diversi, sono binari diversi su cui procedono trattative diverse, quindi non è sempre poco, è a volte sempre facile mettere le cose in relazione fra di loro. La cosa da sottolineare è che il primo incontro fra delegazioni avviene quattro giorni dopo l'inizio dell'invasione, su vasta scala, quindi il 28 febbraio. Avviene in Bielorussia, a circa 50 km dal confine ucraino, qui si incontrano una delegazione russa e una delegazione ucraina, la delegazione ucraina sappiamo che includeva tra gli altri il ministro della difesa, Alexei Reznikov, il leader della maggioranza parlamentare, David Arkhamia, il consigliere dell'ufficio della presidenza, Mikhail Podolyak, Rustem Umarov, che oggi è il ministro della difesa ucraino, e da parte russa c'era il consigliere dell'ufficio della presidenza, Vladimir Medinsky, il viceministro della difesa, Alexander Fomin, e Leonid Slutsky, che è il presidente della commissione parlamentare russa per gli affari internazionali. Slutsky, che tra l'altro è stato anche uno dei candidati di facciata alle elezioni presidenziali russe. Esatto. Quindi diciamo le due parti stanno parlando a quattro giorni dall'inizio dell'invasione, e poi noi oggi possiamo dire, col senno di poi, che a quattro giorni dall'inizio dell'invasione il piano russo di catturare Kev in un certo senso aveva già fallito, perché ovviamente avrebbe dovuto avvenire ancora più rapidamente, ma in questo momento non lo si sapeva e anche le truppe russe erano davvero alle porte di Kharkiv era sotto assedio, Cerniv era sotto assedio, Sumy era sotto assedio, era una situazione estremamente drammatica. Le due parti si incontrano in Bielorussia, è interessante dire che la delegazione ucraina arriva in Bielorussia si è trasportata da elicotteri Black Hawk polacchi, questo per tutelare in un certo senso la sicurezza, e in questo incontro la delegazione ucraina aveva prima dell'incontro detto pubblicamente che cercava quello che volevano ottenere, era una cessazione anche delle ostilità. la delegazione russa propone quella che è di fatto una serie, una lista di condizioni e un ultimatum. Le condizioni proposte dalla delegazione russa erano un cambio di regime a Khiv con l'instaurazione di un nuovo governo approvato, o se non proprio scelto, dal Cremlino, la resa delle forze armate ucraine col disarmo dei sistemi di attiglieria, la consegna dei sistemi di armamento, e via dicendo, e la riduzione permanente delle forze armate ucraine a 50.000 effettivi. Per darvi l'idea, le forze armate ucraine contavano circa 250.000 effettivi a inizio dell'invasione, contano circa un milione oggi. Vi rendete conto che per l'Ucraina difendersi con 50.000 uomini è abbastanza realistico. Poi ovviamente il riconoscimento da parte ucraina dell'annessione russa della Crimea, e delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Luhansk come stati indipendenti, e poi l'implementazione di un piano di denazificazione, e qui non andava tanto nei dettagli la richiesta, ma nello specifico la citazione era arresto e processo di tutti i nazisti e nazionalisti presenti in Ucraina. Ovviamente la definizione di chi cade sotto quella categoria può essere abbastanza elastica e omnicomprensiva. Non solo l'introduzione del russo come lingua ufficiale, in tutto il territorio ucraino, e perfino, e questo è interessante che anche così presto nelle trattative emergesse questo punto, il cambio della toponomastica ucraina con la sostituzione di tutti i nomi di vie, piazze, quello che volete, viali, eccetera, dedicati a personaggi della storia ucraina, dovrebbero essere stati sostituiti con invece personaggi o figure della storia russa o del pantheon russo-sovietico. insomma. Ora, ti rendiamo conto che queste condizioni equivalessero a una completa capitolazione ed erano chiaramente inaccettabili da parte della delegazione ucraina che racconta come poi loro stessi fossero stati minacciati direttamente da parte della delegazione russa anche perfino, che avrebbero fatto minacce dirette a loro e ai loro familiari perfino. Nonostante tutto questo però, e quindi nonostante l'incontro non porti a nulla, le due parti si accordano di incontrarsi di nuovo ed è proprio uno successivo di questi incontri al 7 marzo quindi circa una settimana dopo che risale il primo testo scritto che abbiamo a disposizione che è una bozza dal titolo trattato sulla risoluzione della situazione ucraina e sulla neutralità ucraina che è stato scritto dalla delegazione russa e presentato all'incontro tra le due parti. È importante sottolineare che questa è la bozza più antica da un certo punto di vista cioè quella più antica di cui siamo a conoscenza ma è quella che è stata pubblicata sulla stampa più di recente è stata pubblicata circa un mese fa da Medusa che l'è ripresa da un'indagine di sistema che è l'unità investigativa di Radio Free Europe Russia. Aggiungo un paio di punti sul tema delle fonti Medusa è insomma è un medium indipendente in lingua russa che attualmente credo abbia sede in Lettonia Radio Free Europe questo lo dico perché il problema è che verremo accusati ovviamente di fare propaganda da un lato ci tengo a dire una cosa noi citiamo una serie di fonti Radio Free Europe per esempio è effettivamente un outlet finanziato credo dal Ministero della Defesa americano e insomma è pubblicato in inglese in lingua russa in lingua ucraina eccetera però è un'ottima collezione di fonti ma la cosa che ci tenevo a dire è che questi sono documenti che sono stati pubblicati da più parti e confermano come ci spiega adesso Ludovico le condizioni che già Trofimov nel suo libro che è uscito a gennaio 2024 metteva quindi proprio come diceva Ludovico sono documenti usciti di recente ma in realtà confermano quello che Ludovico ha già raccontato delle condizioni possede ai russi nel 28 febbraio quindi se fino a poco tempo fa le dichiarazioni le rivelazioni di Trofimov potevano essere considerate diciamo come non veritiere perché in teoria di parte ucraina qua adesso abbiamo i documenti che sostanzialmente dicono la stessa cosa per le negoziazioni di inizio marzo questo credo sia importante perché si può contestare Trofimov diventa molto più difficile contestare i documenti di cui stiamo parlando invece adesso e che Ludovico ora ci racconta prego sì esatto anche se non visitate di Radio Free Europe il documento che pubblicano è autentico quindi è stato confermato come autentico da fonti in entrambi e dentro le parti quindi è abbastanza difficile contestare questo e questo documento riprende praticamente le condizioni forse livellamente ammorbidite del primo incontro tra delegazione ancora una volta le esplicita e le mette per iscritto in maniera più estesa ecco ancora una volta qui le condizioni principali che la Russia che chiedeva erano la neutralità ucraina l'Ucraina avrebbe dovuto impegnarsi a diventare permanentemente neutrale non entrare in alcuna alleanza militare con altri paesi o ospitare basi o personale militare stranieri sul proprio territorio l'Ucraina avrebbe dovuto riconoscere la nessione russa della Crimea l'indipendenza delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Luhansk ma in aggiunta a questo e questa è una parte abbastanza quasi ironica l'Ucraina avrebbe dovuto a proprie spese risarcire le Repubbliche Popolari di Donetsk e di Luhansk di tutti i danni alle infrastrutture sostenute dalle regioni di Donetsk e Luhansk durante il conflitto a seguito di questo poi ci era dovuto essere un cessate il fuoco che ancora una volta pensate la proposta russa era che l'Ucraina avrebbe dovuto ritirare le proprie forze dalla linea del fronte e rinunciare a qualsiasi forma di sostegno militare straniero e solo a seguito di tutto questo le forze russe sarebbero ritirate ma solo in seguito all'adempimento di tutte le condizioni da parte Ucraina quindi di fatto l'Ucraina avrebbe dovuto accettare che oltre a rinunciare a un 15 18 20% del proprio territorio avrebbe dovuto anche accettare la presenza militare russa su un altro 10% del proprio territorio ritirando le proprie truppe quindi ritirando la propria possibilità di difendersi da queste truppe e sperare che la Russia avrebbe di fatto adempito alla propria promessa di ritirare le proprie truppe una volta che l'Ucraina avrebbe accettato tutte le altre cose esatto non parliamo dei caschi blu dell'ONU una garanzia internazionale ovviamente e vediamo quali erano queste altre condizioni queste altre condizioni erano ad esempio la rimozione di tutte le sanzioni da parte Ucraina nei confronti della federazione russa ma anche l'Ucraina avrebbe dovuto anche chiedere a tutti gli altri paesi e istituzioni internazionali di rimuovere le proprie sanzioni nei confronti della Russia l'Ucraina avrebbe dovuto ritirare tutti i propri appelli nei confronti della Corte Penale Internazionale della Corte Europea di Giustizia chiedere la cessazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale sul territorio ucraino non solo per il futuro ma retroattivamente l'Ucraina attualmente la Corte Penale Internazionale ha giurisdizione sul territorio ucraino e interrompere la procedura di ratifica dello Statuto di Roma poi sul piano linguistico l'Ucraina avrebbe dovuto inserire il russo come lingua ufficiale su tutto il territorio ucraino e abrogare tutta la legislazione introdotta dal 2014 ad oggi a tutela della lingua ucraina questo ovviamente avrebbe richiesto una modifica della Costituzione il russo non è mai stato una lingua ufficiale in Ucraina non solo la cosiddetta denazificazione come era enunciata prevedeva l'abrogazione di tutta la legislazione varata dal 2014 ad oggi sulla decomunistizzazione come viene chiamata cioè sulla memoria dell'epoca sovietica e l'introduzione di varie forme di criminalizzazione di nazionalismo aggressivo nazismo e neonazismo che peraltro sono già criminalizzate nella legislazione vigente e infine e questo abbastanza interessante l'Ucraina avrebbe dovuto anche abrogare la legislazione che riconosce Tateri di Crimea Karaiti e Kamichaki come popoli indigeni dell'Ucraina e ne tutela diciamo lo status di popolazione nativa ancora una volta se guardiamo a tutte queste condizioni per quanto forse ci sia un lieve miglioramento rispetto al primo incontro stiamo ancora parlando di una completa capitolazione da parte Ucraina l'Ucraina non avrebbe continuato a esistere come paese indipendente sotto tale condizioni perché ovviamente sarebbe stata completamente incapace di difendersi oltre a appunto dover cedere parte in centro del proprio territorio e mantenere la presenza russa su ancora più territorio fino a quando queste condizioni non sarebbero state soddisfatte da parte Ucraina ecco qui ci sono due elementi che poi riprenderemo meglio dopo innanzitutto ricordiamo uno dei motivi cardine per cui la Russia ha giustificato il suo intervento che era quello della difesa delle minoranze linguistiche russe poi ne parleremo meglio dopo ma qui invece si parla di una richiesta di introdurre su tutto il territorio ucraino la lingua russa come lingua ufficiale c'è anche le parti più occidentali più ucrainofone storicamente ucrainofone quindi questo è un elemento molto importante e faccio notare che la Bielorussia ha il russo oltre al bielorusso come lingua ufficiale e ugualmente la Bielorussia è un paese dove lo stato della lingua bielorussa a livello di utilizzo pubblico è crollato nel tempo ed è relativamente marginale questo è un tema che spiega perché esistono leggi in particolare dal 2014 in poi a tutela della lingua ucraina leggi che sono state considerate da parte da parte russa come leggi russofobe e discriminatorie nei confronti dei russofoni questo tema lo riprendiamo dopo però è importante perché fa capire il tipo di posizione negoziale iniziale cioè questa è una condizione da capitolazione finale cioè questa è una condizione da vittoria militare perché è molto totalizzante non è una richiesta di compromesso sulle autonomie locali per esempio di Danesk e Lugansk stiamo parlando di tutto il territorio ucraino e il discorso delle minoranze etniche anche quello insomma non avremo tempo di coprirlo ma è importante nel senso che queste sono condizioni che hanno a che fare non soltanto appunto con la richiesta di sicurezza da parte russa tra virgolette o di garanzie di neutralità dell'Ucraina ma anche un fortissimo intervento nella come dire nelle leggi ucraine e non ripeto le leggi ucraine degli stati diciamo del Donbass o della Crimea ma dell'intero territorio questo è particolarmente importante secondo me per capire il tipo di posizione che Ludovico definisce massimalista della Russia in queste negoziazioni arriviamo a questo punto siamo sempre a marzo al forum diplomatico di Antalya sì che in realtà concludo è poco però vale la pena ricordarlo perché il primo incontro fra i due ministri degli esteri russo e ucraino cioè Lavrov e Kuleba è un incontro abbastanza breve che si tiene a Antalya come hai detto in Turchia dove apparentemente Kuleba diceva di voler chiedere un cessate il fuoco di 24 ore per consentire l'evacuazione dei civili di Mariupo ma il risultato dell'incontro è in realtà un nulla di fatto nelle rispettive interviste poi Kuleba dirà che Lavrov non sembrava essere interessato a ottenere il cessato il fuoco ma che non avesse nemmeno l'autorità per negoziarlo Lavrov invece usa buona parte della propria conferenza stampa dopo l'incontro per dare adito alla teoria del complotto sui laboratori biologici statunitensi in Ucraina ma anche per sostenere che l'ospedale pediatrico di Mariupo che era stato bombardato dalle forze russe quello stesso giorno o il giorno prima ora non ricordo esattamente fosse in realtà una base militare del battaglione ASO come sempre che è onnipresente in questo tipo di narrazioni quindi in realtà è abbastanza un nulla di fatto questo incontro e in realtà si può passare già a circa una settimana dopo quando da quello che sappiamo ha inizio o diciamo continuano le negoziazioni in un nuovo formato questa volta in remoto in videoconferenza e il consigliere dell'ufficio della presidenza ucraina Mikhail Podolyak condivide l'informazione secondo cui ci sia un piano basato su 15 punti che le due delegazioni stanno discutendo e lo stesso Zelensky dichiara su credo proprio canale Telegram che la conversazione con i russi hanno cominciato ad assumere toni più realistici dice queste negoziazioni portano a una bozza di trattato che è datata a 17 marzo quindi siamo a circa 21 giorni dall'inizio dell'invasione questa bozza al titolo trattato sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina ed è stata pubblicata dal New York Times il giugno di quest'anno ed è proprio strutturata su 15 articoli proprio come aveva detto nelle proprie dichiarazioni Podolyak e affronta un po' tutte quelle che sono le questioni principali che stiamo discutendo la cosa importante da capire per cui è particolarmente interessante è che questo a differenza del documento precedente questo documento include le note delle due delegazioni in colori diversi quindi noi possiamo vedere il testo provvisorio del trattato con le note in un colore della delegazione russa e le note in un altro colore della delegazione ucraina e capire dove ci fossero le contraddizioni punti di disaccordo tra le parti la cosa più importante da dire dell'accordo per capire come funziona per capire la struttura è che la struttura dell'accordo prevedeva che la Russia si ritirasse dai territori occupati a seguito del 24 febbraio 2022 in cambio di questo l'Ucraina rinunciasse esplicitamente all'ingresso nella Nato ora o in futuro e ricevesse invece garanzie di sicurezza da parte di paesi terzi questa diciamo è l'architettura generale dell'accordo ed è l'architettura generale anche delle bozze successive poi capiremo ci sono altre provisioni che vedremo erano oggetto di scontro fra le due delegazioni ma questa era l'architettura del trattato il problema che possiamo vedere chiarire che appunto l'ingresso della Nato è all'oggetto diciamo della negoziazione ma si lasciava aperto l'ingresso nell'Unione Europea assolutamente sì l'ingresso dell'Unione Europea non era messo in discussione per quanto in realtà poi come vedremo nelle note la delegazione russa insisteva che l'Ucraina se anche fosse entrata nell'Unione Europea non avrebbe partecipato alla difesa europea alla difesa europea o diciamo a tutte le sedi di i trattati sulla sicurezza europea che è un fatto insolito perché tutti i paesi membri dell'Unione Europea che sono neutrali come l'Austria o l'Irlanda ne fanno parte all'epoca la Svezia e la Finlandia erano ancora neutrali ne facevano parte quindi c'era questo però è vero in linea di principio l'accesso all'Unione Europea era previsto da questo trattato quello alla Nato invece no diciamo accesso all'Unione Europea con neutralità rafforzata anche rispetto agli standard storici e questo era uno dei punti di scontro fra le due delegazioni la prima cosa che salta all'occhio però è la questione delle garanzie di sicurezza e cioè quello che viene un po' disegnato da questa struttura è un trattato multilaterale in cui due parti Russia e non so Nato si accordano che a garantire la sicurezza di un paese terzo in questo caso l'Ucraina a condizione che questo non sia allineato né con una parte né con l'altra il problema è che l'Ucraina aveva un po' già sperimentato questo tipo di accordo nel memorando di Budapest in 1994 con cui aveva rinunciato al proprio arsenale nucleare in cambio della promessa si noti promessa non garanzia da parte di Stati Uniti Regno Unito e Federazione Russa di non attaccare l'Ucraina e di rispettarne l'indipendenza e integrità territoriale ora è evidente che il memorando di Budapest non ha avuto effetto perché la Russia dal 2014 oggi ha invaso e attaccato l'Ucraina tre volte non solo anche la promessa di difendere la promessa di tutelare l'Ucraina da parte degli Uniti e Stati Uniti non ha avuto successo perché era una promessa non una garanzia quindi il memorando di Budapest non prevedeva l'obbligo per Regno Unito o Stati Uniti di intervenire militarmente a difesa dell'Ucraina ma solo quello di convocare il consiglio di sicurezza dell'ONU per fornirle assistenza quindi chiaramente una cosa come il memorando di Budapest non avrebbe tutelato l'Ucraina nel futuro e la leadership ucraina ne era consapevole perché nelle loro dichiarazioni sia Zelensky che altri dicevano continuamente il memorando di Budapest non è un modello dobbiamo trovare una forma che ci dia garanzie di sicurezza assolute che in un futuro se fossimo sotto attacco i nostri garanti dovrebbero intervenire direttamente a nostra difesa esatto aggiungiamo un elemento interessante che raccontava a fine 22 nel New York Times sono state utilizzate contro l'Ucraina armi che l'Ucraina aveva dato alla Russia erano praticamente missili per inviare testate nucleari che nel contesto del memorandum di Budapest in cui l'Ucraina si liberava di questo suo arsenale militare nel contesto del disarmo e della sicurezza mondiale questi missili sono stati consegnati alla Russia una parte di questi missili senza la testata nucleare sono stati poi utilizzati dalla Russia contro l'Ucraina quindi oltre al tema della mancata garanzia da parte delle forze che si erano fatte garanti o comunque promissori delle condizioni del memorandum di Budapest c'è anche l'elemento che l'Ucraina si era già disarmata in precedenza e ne stava pagando di fatto le conseguenze in quel momento quindi vanno tenuti conto tutti questi aspetti nella sfiducia del governo ucraino nelle negoziazioni e qui in un certo senso possiamo già vedere quello che è il primo scoglio poi entreremo nel dettaglio di dove le due delegazioni non concordassero che sono moltissimi punti ma al di là di questo c'è già proprio un problema di fondo di questo tipo di accordo e cioè che la domanda che è legittimo porsi è perché i paesi occidentali avrebbero fornito garanzie di sicurezza all'Ucraina che gli avrebbe portati ad un confronto diretto con la federazione russa in caso di un'invasione russa quando non erano stati disposti a farlo in passato quando una guerra tra Ucraina e Russia non era in corso cioè perché se lo scopo se diciamo la finalità dichiarata dall'amministrazione Biden era quella di evitare un escalation che portasse allo scontro tra Nato e federazione russa perché avrebbero accettato di fare a seguito di un'invasione coloro che non erano disposti a fare prima di un'invasione quindi la difficoltà di questo tipo di garanzia è già abbastanza evidente e vedremo che è una delle ragioni principali per cui i negoziati non andranno a buon fine come sappiamo la guerra è ancora in corso ma se vogliamo entrare proprio nel dettaglio anche delle cose sui due punti su cui le due delegazioni discutevano e questo possiamo vedere da quelle note di cui abbiamo parlato una prima questione è quella della neutralità come abbiamo detto la parte ucraina aveva accettato la posizione di diventare un paese neutrale e di rinunciare all'accesso della Nato ma la delegazione russa chiedeva che la neutralità ucraina fosse incondizionata mentre la parte ucraina chiedeva che la neutralità ucraina fosse condizionata all'ottenimento di queste garanzie di sicurezza e qui già possiamo vedere che c'è una questione di fondo non da poco nel senso che per quale ragione la Russia insisterebbe sull'idea che la neutralità ucraina fosse incondizionata nel senso è abbastanza evidente che c'è una forma di malafede in questo tipo di richiesta e quindi questo era già una forma uno dei molti punti di disaccordo fra le parti l'altro era ancora la modalità del cessato il fuoco e cioè la modalità di cessato il fuoco proposta dalla Russia prevedeva che entrambe le parti avrebbero posto fine all'ostilità e non avrebbero continuato cioè sarebbero astenuti da movimenti e azioni che potessero portare all'espansione del territorio sotto proprio controllo ma che a seguito di questo l'Ucraina avrebbe dovuto ritirare tutte le proprie unità armi equipaggiamento riposizionarli in luoghi di dispiegamento concordati con la federazione russa cioè la federazione russa avrebbe saputo dove tutte le forze ucraine sarebbero riposizionate tutta l'assistenza militare esterna da parte dei paesi occidentali avrebbe dovuto cessare e a seguito da tutto questo la Russia avrebbe ritirato le proprie forze ai confini precedenti del 24 di febbraio ma solo dopo che tutti i termini previsti del trattato fossero stati attuati da parte ucraina e chiaramente questo prima deve disarmarsi e poi le truppe russe si ritirano cioè non c'è un cestato il fuoco in cui si iniziano mano a mano a realizzare le condizioni esatto ma non solo l'Ucraina deve ritirarsi e disarmarsi ma deve anche adempiere a tutte le condizioni del trattato il che ovviamente crea un incentivo da parte russa a inserire quante più condizioni possibili e quante più complesse chiaramente se una condizione richiede una modifica costituzionale non è una cosa che avviene ad esempio quelle sulla lingua esatto mi chiede un enorme tempo di sviluppo esattamente quindi anche in questo si nota la strategia adattata da parte russa non solo sulle garanzie di sicurezza la parte ucraina ora i paesi che avrebbero dovuto essere garanti della sicurezza non vengono nominati direttamente ma stiamo sicuramente parlando dei membri del consiglio di sicurezza dell'ONU e forse di qualche altro paese occidentale poi verranno nominati in altre bozze forse di Israele ancora no ancora no a questo punto però in quella fase c'era già Bennett che comunque sia come vedremo però la cosa interessante anche qui è che l'intervento in queste garanzie di sicurezza l'Ucraina nella proposta Ucraina l'intervento in difesa dell'Ucraina in caso di un attacco futuro sarebbe stato perché questo intervento avvenisse sarebbe stato sufficiente il consenso di tre stati garanti e a questo punto possiamo già pensare Stati Uniti Regno Unito Francia tre membri del consiglio di sicurezza mentre la Russia chiedeva l'unanimità e questo quindi implicava che la Russia avrebbe avuto un diritto di veto sull'intervento occidentale in difesa dell'Ucraina nel caso in cui la Russia attaccasse l'Ucraina in futuro la Russia si voleva attribuire un veto al sostegno militare occidentale in aiuto all'Ucraina tra l'altro questo Ludovico può essere letto l'interpretazione diciamo peggiore possibile di questo è che la Russia chiaramente non volesse che le negoziazioni avessero un qualsiasi esito nel senso che lì si introduce praticamente una come dire si introduce una regola che di fatto rompe qualsiasi possibilità di garanzia proprio perché la Russia ne è garante quindi l'interpretazione è più come dire se la conclusione è che la Russia è in malafede quella è la prova della malafede se la conclusione non è che la Russia fosse in malafede comunque emerge un enorme problema perché si chiedeva all'Ucraina di porre la Russia come garante della non futura invasione da parte russa di fatto esatto esattamente cioè non c'è un garante nel senso il garante è una delle due parti e quindi non c'è un garante di fatto esatto questa è proprio la questione non solo anche solo un'altra ragione per cui un altro punto diciamo di discordo importante era quello sui territori sui confini ai territori nelle note la delegazione russa inserisce ripetutamente che l'Ucraina deve rinunciare alla Crimea la Crimea diventa parte della federazione russa e le regioni e Donetsk e Luhansk diventano indipendenti nella forma di Repubblica Popolare di Donetsk e di Luhansk mentre l'Ucraina nelle note continua a inserire l'espressione confini internazionalmente riconosciuti della Repubblica d'Ucraina ovviamente facendo riferimento a quelli del 1991 che sono i confini internazionalmente riconosciuti all'epoca anche dalla Russia tra parentesi che appunto ha firmato trattati come Budapest assolutamente sì e qui c'è diciamo una delle due differenze principali nel senso che la delegazione russa voleva che questo trattato finalizzasse sia la neutralità ucraina che la questione dei territori mentre l'Ucraina voleva dividere due cose in due discussioni diverse voleva che questo trattato diciamo avesse come solo oggetto la neutralità ucraina e le garanzie di sicurezza per l'Ucraina in futuro e che la questione territoriale venisse discussa separatamente a seguito di questo in un incontro diretto fra Putin e Zelensky e questo perché? questo perché chiaramente credo che ovviamente è difficile leggere nella mente delle negoziazioni ovviamente da parte russa era ovvio il perché volevano il riconoscimento di territori che avevano occupato da parte ucraina evidentemente c'era l'idea che le due questioni potessero essere diciamo spezzate cioè separate fra di loro cioè che fosse possibile per l'Ucraina accettare la neutralità ottenere delle garanzie di sicurezza e poi sotto questo dopo che tutto questo era stato diciamo accordato e approvato l'Ucraina sarebbe diventata neutrale quindi avrebbe soddisfatto alcune delle richieste di Mosca avrebbe avuto garanzie di sicurezza quindi che non aveva prima della guerra dell'invasione sulla stascala quindi era a sua volta da una posizione più di forza di prima che a quel punto la discussione sui territori avrebbe potuto essere diciamo più razionale di quello che sarebbe stata se fosse stato messo tutto insieme credo che questo fosse l'idea di fondo poi che un incontro tra Zelensky e Putin avrebbe potuto portare a qualcosa come facciamo a sapere un po' tutti avevano espresso scetticismo da Lavrov stesso credo anche a Bennett eccetera ma anche se mostri se vuoi mostrare la cartina delle regioni di Donetsk e Luhansk possiamo metterle in anteprima adesso se voi vedete questi sono i territori per chi ci ascolta solo ci sono tre mappe una mostra l'occupazione dei territori di Donetsk e Luhansk prima dell'invasione sulla stascala e un'altra mostra quella in mezzo mostra l'occupazione di quei territori al tempi della negoziazione poi quella sulla destra la situazione attuale come possiamo vedere ad oggi la Russia non controlla la totalità di Donetsk e di Luhansk controlla quasi la totalità di Luhansk ma controlla circa il 60% della regione di Donetsk e la posizione russa era quella che l'Ucraina avrebbe dovuto rinunciare anche a territorio che controllava perché queste due regioni sarebbero diventate due stati indipendenti nella totalità dei propri confini amministrativi quindi ancora una volta era la posizione russa che era estremamente massimalista cioè chiedeva all'Ucraina di rinunciare a territorio che la Russia non aveva mai occupato e non aveva mai controllato nemmeno quindi questo è un fatto che va ripetutamente diciamo ricordato perché molto spesso quando si parla si parla come se la Russia controllasse la totalità dei due oblast dal 2014 a Dopri non è vero tutt'oggi non controlla la totalità di quelle due regioni ecco esatto e va aggiunto un elemento che all'epoca diciamo non avevamo è che poi la Russia si è annessa anche a altri territori cioè per la Russia adesso quelli sono Russia anche le parti non occupate nel senso che sono state dichiarate come annesse e in quel caso non si era neanche passati per le repubbliche indipendentiste si era direttamente annesso e dichiarato come russo il territorio questo fa capire anche che la logica non era riprendersi un territorio storicamente russo e basta perché poi si è andati oltre sì ufficialmente oggi la Russia non controlla la totalità del proprio territorio stando alla propria costituzione stando alla costituzione russa c'è territorio russo che è occupato dall'Ucraina e aggiungo che si pone un altro problema futuro come fa la Russia a essersi annesso il Kherson per esempio e utilizzarlo come elemento negoziale cioè se quella adesso è Russia come faccio a dire cedo il Kherson dateci il Donbass per esempio esatto ma quella è stata una scelta adesso cerchiamo di divagare ma con ogni possibilità quella è stata una scelta russa per diciamo trincerarsi ancora di più in posizioni più massimaliste no? questo è abbastanza evidente ma avverrà solo diciamo cinque mesi dopo queste negoziazioni no? quindi è un avviene in tutto un altro contesto però diciamo muovendoci sulle altre condizioni c'era quello sulle dimensioni delle forze armate ucraine e qui ritorna il tema già discusso non possiamo entrare nel dettaglio esattamente di quelle che erano le due posizioni ma tanto per capirci la posizione russa ad esempio era che le forze armate ucraine dovessero contare cinquantamila effettivi come abbiamo già detto è completamente irrealistico le forze armate ucraine a inizio dell'invasione erano circa duecentocinquantamila oggi sono un milione e sappiamo l'enorme fatica che impiega questo milione di uomini a tenere la linea del fronte immaginatevi con cinquantamila uomini è chiaramente impossibile è una richiesta di disarmo non a caso un funzionario dell'amministrazione Biden di cui non sappiamo il nome perché ha chiesto l'anonimità ha dichiarato a New York Times che quando aveva visto queste condizioni aveva detto alla delegazione ucraina siete voi quelli che devono decidere ma vi rendete conto che questo per voi è un disarmo unilaterale non avrete nessuna forma di difesa in questa situazione esatto in aggiunta è vero che non dobbiamo andare nei dettagli ma si richiedeva anche di consegnare per esempio armamenti anticarro quindi esatto armamenti di difesa contro invasione con carri armati esatto questo è fatto bene a sottolinearlo Andrea perché la richiesta russa era non solo che l'Ucraina non possedesse e non sviluppasse armamenti con gittata superiore a 250 km uno può dire beh la finalità di questo è perché la Russia non vuole che l'Ucraina sia dotata di armamenti che possano colpire in territorio russo ok va bene ma perché l'insistenza al fatto che l'Ucraina si disarmasse da armi che come dire armamenti difensivi diciamo come misili anticarro o questo genere di cose qui no chiaramente anche qui non è il segno di qualcuno particolarmente diciamo interessato a ottenere un compromesso in aggiunta a tutto questo abbiamo punti che abbiamo già discusso come la rimozione di tutte le sanzioni no sia da parte dell'Ucraina che da parte di tutti gli altri paesi ancora una volta se la Russia aveva detto stando alla formula russa di cessate il fuoco quindi le forze russe si sarebbero ritirate solo dopo anche che tutti i paesi in giro per il mondo che avevano imposto sanzioni sulla Russia le avessero ritirate come se l'Ucraina avesse la possibilità di influenzare così tanto altri paesi in giro per il mondo sulle sanzioni che vogliono non vogliono dare nei confronti della Russia è come se questa cosa potesse essere fatta rapidamente è una serie di cose probabilmente che richiede moltissimo tempo quindi ancora una volta questo mostra l'intenzione russa di aggiungere quante più condizioni possibili per prolungare la propria presenza in Ucraina e va detto che su tutti questo tipo di punti la risposta ucraina va detto ovviamente a quello delle dimensioni delle forze armate l'Ucraina aveva risposto con una lista invece di quella che era la propria posizione su queste questioni come le sanzioni la risposta ucraina era le sanzioni non hanno nulla a che fare con la neutralità e garanzie di sicurezza dell'Ucraina le discuteremo in un futuro quando tutte le altre questioni sono risolte quindi diciamo la posizione ucraina era sempre quella di rendere il trattato più minimalista possibile cioè concentriamoci solo su neutralità e garanzie di sicurezza le altre cose le discuteremo in sede di trattati bilaterali una a una più avanti quindi questo diciamo è un po' un motivo ricorrente delle negoziazioni la Russia cerca di mettere quante più cose possibili all'interno del trattato l'Ucraina cerca di ridurre lo scopo del trattato e invece discutere le altre questioni separatamente stessa cosa vale per la questione della giustizia la corte penale internazionale tutti gli appelli alla corte europea di giustizia stessa questione già discussa in passato ancora una volta l'Ucraina dice non ha niente a che fare con la neutralità e le garanzie di sicurezza e non dipende da noi ne discutiamo separatamente e ancora una volta lo stato della lingua russa e cioè da parte russa c'era lì la richiesta di modifica costituzionale della modifica della costituzione ucraina per inserire il russo come lingua ufficiale su tutto il territorio ucraino e abrogare tutta una serie di leggi che erano state passate in Ucraina a tutela della lingua ucraina vale bene ricordare che il russo non è mai stato una lingua ufficiale in Ucraina e nonostante questo l'uso del russo per quanto magari in diminuzione negli ultimi decenni e tra le generazioni più giovani è diffuso su tutto il territorio dell'Ucraina in proporzioni e modalità diverse non c'è un divieto di parlare russo non c'è nulla di questo tipo tuttavia ad oggi molti ucraini usano il russo nella lingua di tutti i giorni le stime sono che circa un 15% della popolazione oggi usi il russo nella vita di tutti i giorni nonostante questo il sostegno ma chiamiamo solo il russo nella vita solo il russo nel senso che in realtà quasi il 50% della popolazione lo usa o esclusivamente o in larga parte o insieme all'Ucraino e poi c'è un'altra metà di popolazione che usa prevalentemente l'Ucraino o solo l'Ucraino e c'è una grande distanza fra est e ovest e va detto che in realtà il grande acceleratore dell'Ucraino è stato prima diciamo tutto quello che è successo da Euromaedani in poi ma poi in realtà l'invasione cioè l'invasione che sta cambiando sempre di più anche il consumo dei media eccetera eccetera quindi questo va chiarito nel senso che la situazione linguistica in Ucraina in particolare prima del 14 ma anche soltanto fino al 2022 era quella di una larghissima diffusione della lingua russa e in particolare ancora oggi soprattutto le persone di una certa età diciamo est e ovest sono in larga parte russofone se non appunto con l'eccezione delle zone più occidentali quindi le leggi a tutelare la lingua ucraina servivano a tutelare la lingua di minoranza soprattutto prima del 2014 sì posto che come sempre comunque le due lingue non sono mutualmente esclusive la maggior parte della popolazione è in grado di capire parlare entrambe e quindi in realtà questa questione della divisione linguistica è una questione che solo solo chi non capisce il contesto linguistico ucraino può sostenere nel senso ah esatto nel senso il grafico che guardiamo dice parlare nella vita di tutti i giorni quindi non ci si riferisce al capire esclusivamente una lingua ma all'utilizzarla esclusivamente e una delle diciamo cose tipiche che accadono in Ucraina l'abbiamo spiegato insomma mille volte è anche avere conversazioni dove uno parla solo in russo e l'altro risponde solo in ucraino quindi tutti comunque capiscono la lingua di stato tendenzialmente quasi tutti e tutti capiscono il russo perché e soprattutto non c'è grande in Ucraina ad oggi non c'è particolare sostegno per l'idea di avere il russo come lingua ufficiale mi pare che l'ultima dato dica che un 3% della popolazione sarebbe disposto ad avere l'Ucraino come lingua ufficiale in tutto il paese e il dato è crollato nel tempo ovviamente in arancione come potete vedere la quantità di popolazione dal 97 a oggi che sarebbe stato che pensava che il russo come avrebbe potuto essere seconda lingua ufficiale su tutto il paese come vedete oggi per chi ci ascolta dal 40% del 97 cioè dovrebbe essere fatta come seconda lingua di stato che è molto più forte di dire accettata perché era accettata praticamente dall'80% della popolazione del 90 soltanto un 18% diceva nella vita pubblica non andrebbe usato il russo nel 97 questa proporzione di 18% è di tale il 66% cioè oggi il 66% di ucraini interrogati dice non dovrebbe essere usato nella vita pubblica che non vuol dire nel privato quindi ci sono molti russofoni in quel cluster di persone che dicono l'Ucraino va parlato in pubblico ma io parlo russo in privato e solo il 3% dice deve diventare una seconda lingua ufficiale che ripeto è la situazione che c'è in Bielorussia dove la lingua bielorussia è in grandissima difficoltà e ha molta poca vitalità una lingua peraltro è una lingua praticamente che è sul continuum dell'Ucraino c'è una lingua molto simile all'Ucraino ed è esattamente l'esempio di quello che potrebbe accadere all'Ucraino in una situazione del genere qui teniamo conto che non abbiamo soltanto il controfattuale storito chissà che sarebbe successo abbiamo l'esempio della Bielorussia che è molto più chiaro agli ucraini ovviamente di quanto possa essere chiaro da fuori esattamente questa questione linguistica riemerge continuamente nelle richieste russe a questo si aggiunge ancora una volta la questione della denazificazione che ancora una volta nel testo del trattato scrive cioè viene enunciata come messa al bando di ogni forma di nazismo neonazismo e delle organizzazioni adesso legate in tutte le attività organizzazioni di estrema destra e di partiti che propagano l'ideologia nazista e neonazista questo è il testo del trattato questo viene scritto dalla parte russa nel trattato se poi uno va a vedere la nota dice con riferimento a queste leggi passate dall'Ucraina uno va a vedere cosa dicono queste leggi che cosa scrivono queste leggi tutte queste leggi in realtà hanno pochissimo a che fare con il neonazismo il nazismo assolutamente nulla posto che il nazismo è già criminalizzato per legge in Ucraina tutte queste specifiche disposizioni di legge che la Russia chiedeva fossero abrogate hanno in realtà tutte a che fare con la memoria dei crimini di epoca sovietica e la decomunistizzazione e la riabilitazione delle vittime delle persecuzioni sovietiche quindi ancora una volta in realtà viene mascherato sotto quell'umbrello dello spauracchio del neonazismo eccetera questioni come non so la memoria delle vittime delle purghe staliniane o del fatto che legge che condanna la memoria che condanna che criminalizza il nazismo in Ucraina include anche la criminalizzazione del regime sovietico in Ucraina ovviamente questo era uno degli elementi che ovviamente da parte russa non era tollerato e infine una cosa abbastanza interessante anche qui è quella sulla libertà di movimento e cioè la federazione russa chiedeva anche che l'Ucraina ripristinasse la libertà di movimento tra federazione russa e ucraina senza bisogno di visto e la riapertura delle frontiere incluse di comunicazione ferroviaria e aere e via dicendo va precisato che dal 2015 in seguito all'invasione russa della Crimea e di Donetsk e Luhansk il governo ucraino aveva sospeso tutti i voli per e da la federazione russa cioè dal 2015 a oggi non è più possibile prendere un volo dall'Ucraina alla Russia non solo in aggiunta a tutto questo l'Ucraina aveva anche inserito il controllo alla frontiera cioè c'era bisogno del passaporto per andare dalla federazione russa all'Ucraina che non era il caso non era così in passato e il divieto per tutti i cittadini russi maschi tra i 16 e i 60 anni non già residenti in Ucraina di entrare in Ucraina quindi la federazione russa richiedeva diciamo l'abrogazione di tutte queste norme che l'Ucraina aveva inserito in seguito all'invasione russa dell'Ucraina nel 2014 anche qui è una richiesta non da poco vedete ripristinare la libertà di movimento tra due paesi che sono attualmente in guerra è abbastanza diciamo una richiesta non da poco tutte queste richieste quella sulla lingua quella sulla denazificazione questa qui sulla libertà di movimento tutte queste qui la delegazione ucraina diceva ne discutiamo separatamente io in sede separata non è tema questo trattato questa bozza era del 17 marzo e come abbiamo detto entro il 21 marzo appare abbastanza chiaro che si è andato un po' nel senso che sia il portavoce del Cremlino Peskov che il consigliere della presidenza in Ucraina Podolyak dicono che le negoziazioni non hanno portato a un accordo Peskov ne imputa la responsabilità all'Ucraina Podolyak dice che le posizioni delle due parti sono troppo lontane fra di loro per arrivare a un accordo fatto sta che non c'è nessun progresso su questo punto fino a circa due settimane dopo a fine marzo quando c'è la famosa negoziazione di Istanbul molto spesso nella narrazione che viene diffusa sulla pancia sabotata si parla Istanbul eccetera Istanbul comincia solo ora ci sono stati un mese di negoziazione prima che quasi sempre vengono omesse da questa narrazione e quindi possiamo arrivare a raccontare quello che accade a Istanbul tra fine marzo e metà aprile diciamo ecco un inciso in questo mese di marzo poi lo vediamo dal tema delle negoziazioni di Istanbul mentre stanno avvenendo queste negoziazioni i russi fanno la strage di Buccia ad esempio cioè dobbiamo ricordare che diciamo mentre c'è questo tavolo aperto accadono alcune delle principali violazioni dei diritti umani fatte dall'esercito russo che verranno svelate soltanto appunto ad aprile o l'assedio di Mariupol Mariupol è continuamente assediata con le conseguenze che conosciamo cioè durante tutte queste negoziazioni il conflitto continua nelle modalità che conosciamo bene è importante il 29 marzo questo è un era stato un scoop all'epoca il 29 marzo le due delegazioni dichiarano di essere riuscite ad accordarsi su un comunicato su un comunicato il cui testo però non viene mai pubblicato cioè le due delegazioni dicono abbiamo un comunicato congiunto su cui siamo d'accordo ma il testo non viene pubblicato e viene ottenuto dal New York Times solo quest'anno cioè nel 2024 da Foreign Affairs e dal New York Times e questo crea ovviamente infinite speculazioni su cosa ci fosse in quel comunicato su cui le parti erano d'accordo se guardiamo il testo ci accorgiamo che in realtà è meno interessante ed esaustivo del testo del trattato è un documento di una facciata o poco di più che ribadisce quella formula della neutralità che abbiamo già discusso neutralità in cambio di garanzia e di sicurezza e riassume i contenuti del trattato precedente in punti abbastanza sintetici ma scrive una nota che tutti i punti su cui le parti non concordano diciamo su tutti i punti su cui le parti non concordano i termini definitivi sono ancora oggetto di negoziazione quindi era tutt'altro che un documento finale un documento che diceva siamo d'accordo sulla architettura generale di un trattato sulla sicurezza ma ci sono tutta una serie di punti su cui doveva ancora discutere questo era diciamo il contenuto del comunicato e diciamo le aggiunte principali che sono importanti invece è che il comunicato per la prima volta identificava i paesi garanti che sarebbero stati cinque membri del consiglio di sicurezza dell'ONU quindi Stati Uniti Regno Unito Francia Cina e Russia ma anche Turchia Germania Canada Italia Polonia Israele erano lì come possibili candidati non solo nella formula di questo comunicato la delegazione ucraina aveva introdotto la formula secondo cui i garanti avrebbero dovuto avrebbero garantito su base individuale o collettiva di fornire assistenza militare inclusa la chiusura dello spazio aereo sopra l'Ucraina la fornitura di armi necessarie e l'uso della forza armata in caso di un nuovo attacco nei confronti dell'Ucraina va sottolineato questo passaggio perché è molto più forte di quanto dica l'articolo 5 della 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 NATO quindi chiaramente l'Ucraina stava cercando di inserire queste garanzie di sicurezza all'interno del comunicato l'altro punto principale di questo comunicato è che la questione della Crimea rimaneva esclusa cioè l'idea che la Crimea non fosse soggetta a questo trattato e che sarebbe stato oggetto di una negoziazione bilaterale fra le parti nei successivi 10-15 anni questo è il contesto in cui viene fatta la comunicazione del comunicato ma il comunicato non viene mai pubblicato perché sul campo di battaglia sta avvenendo qualcos'altro e cioè le forze russe stanno cedendo le proprie posizioni a Kiev a Kharkiv a Cernyiv e hanno cominciato a ritirarsi tra il 29 marzo e l'8 aprile le forze russe vengono espulse da tutto il territorio diciamo no tutta l'Ucraina settentrionale Kiev Kharkiv Sumy e via dicendo ed è in questo contesto che di fronte diciamo a questa situazione il vice ministro della difesa russo dice che si tratta in realtà di una scelta russa di ritirarsi per mostrare buona fede nella negoziazione ovviamente questo non era la verità il fatto era che la Russia si trovava a negoziare e nel corso della negoziazione la propria posizione peggiorava progressivamente perché le proprie forze venivano espulse dalla zona di Kiev e delle città settentrionale dell'Ucraina e quindi dovendo diciamo riformulare quello che stava succedendo la posizione russa diventa ci stiamo ritirando volontariamente per mostrare la nostra buona fede l'altra la conseguenza di questo però è che invece quello che emerge sono i fatti come dicevi tu di Buccia e cioè improvvisamente i crimini commessi dalle forze russe nei territori occupati diventano noti non solo alle delegazioni ma a tutto il mondo abbiamo le immagini terrificanti di quello che accade a Buccia nei territori occupati da Russia che sono stati deoccupati o liberati dall'Ucraina e questo è uno shock enorme non solo per tutti quanti ma anche per la leadership politica ucraina lo stesso Vodaliac avrebbe dichiarato che fino a quel punto loro stessi non si erano resi conto della brutalità dell'invasione russa e dell'intento genocida della guerra russa contro l'Ucraina e quindi questo ha un ruolo molto importante sulla prosecuzione dei negoziati ora alcuni sostengono che questo di fatto abbia messo fine ai negoziati cioè che Buccia sia stato il punto in cui l'Ucraina abbia detto non abbiamo più interesse a negoziare dopo che abbiamo visto tutto questo l'evidenza però ci suggerisce che non sia necessariamente così perché la successiva bozza che abbiamo di un trattato risale al 15 aprile e che è una settimana dopo la visita di Zelensky a Buccia quindi se non altro le negoziazioni hanno continuato per almeno una settimana dopo che Zelensky aveva assistito direttamente a quello che era accaduto a Buccia quindi è difficile dire se Buccia sia stata la fine delle trattative sicuramente ha inasprito i toni sicuramente ha fatto capire alcune cose a una parte soprattutto anche di fronte al diniego da parte russa dei crimini perché ovviamente sia il ministro degli esteri Lavrov che il capo dell'edizione russo negava che questi crimini fossero stati compiuti dalle forze russe dicevano che era una messa in scena eccetera però sicuramente questo se non altro rende la negoziazione più difficile e possiamo guardare da fuori nel senso che è credibile anche pensare che comunque un po' di evidenza il governo ucraino le avesse già da prima ma poi si è posta pubblicamente la questione e quindi poi si è posta pubblicamente la questione di un governo russo che negava dei crimini che il governo ucraino invece pubblicamente denunciava in un contesto in cui si negoziava esatto e a questo punto possiamo guardare l'ultima bozza di un trattato che risale il 15 aprile quindi siamo a praticamente a un mese e mezzo dall'inizio dell'invasione questa bozza è praticamente molto simile a quella precedente sono 18 articoli invece di 15 ma insomma la struttura è molto simile ha una serie di progresso c'è progresso su alcune situazioni ad esempio la Russia sembra aver superato la questione dell'incondizionalità della neutralità ucraina e sulla questione dei territori quello che dice questo trattato è che questo trattato non si applica ai territori della Crimea e agli altri territori indicati sulla mappa allegata la mappa allegata non è disponibile il documento non ha la mappa quindi non possiamo sapere quali siano i territori delineati sulla mappa ma pensiamo siano Donetsk Luhansk o meno pezzi di Donetsk e Luhansk esatto quindi questo suggerisce che le parti almeno a livello preliminare erano disposte all'idea di separare la questione territoriale dalla questione di neutralità e garanzie di sicurezza a questo punto che ricordiamo era la richiesta ucraina fin da subito e che poi complice il ritiro dell'indebolimento della posizione militare russa in quel momento probabilmente è stato accolto esattamente tuttavia però rimanevano il disaccordo su tutti quegli altri punti che vi abbiamo descritto e cioè il cessato il fuoco nel senso la Russia chiedeva ancora la formula di cessato il fuoco in cui di fatto l'Ucraina si ritira deve tempere tutte queste condizioni e poi forse una volta che l'avesse fatto le forze russe si sarebbero ritirate che era chiaramente una richiesta irricevibile la parte russa insisteva su avere la Russia come garante di sicurezza dell'Ucraina con diritto di veto sull'intervento da parte di altri paesi in aiuto dell'Ucraina in futuro e non solo chiedeva l'introduzione anche della Bielorussia come garante della sicurezza dell'Ucraina quindi questo avrebbe dato alla Russia di fatto un doppio veto sulla difesa dell'Ucraina in caso di una nuova invasione quindi questo anche chiaramente era un modo di era chiaramente un altro punto chiaramente inaccettabile nel senso che di fatto la Russia attribuiva se stesso il veto nei confronti del sostegno occidentale all'Ucraina in caso di un conflitto futuro e poi tutte le questioni sulla lingua sulle sanzioni sulla denazificazione anche su questa questione la Russia insisteva e l'Ucraina continuava a dire queste questioni non hanno a che fare con questo trattato ma l'Ucraina insisteva su queste cose qui esatto e lì è significativo dire che loro insistessero senza neanche modificare cioè avessero detto ok almeno toglieteci le sanzioni ma rinunciamo alla denazificazione e vi chiediamo lo stato speciale della lingua russa che ripeto qui stanno chiedendo lo stato ufficiale non lo stato speciale che è una cosa diversa ma neanche la denazificazione che chiaramente è un punto posto in questi termini di fatto inaccettabile e sulle dimensioni delle forze armate c'è stato un piccolo movimento da parte russa ma nel senso che erano disposti a concedere 85.000 invece di 50.000 effettivi avevano ridotto il numero della guardia nazionale invece quindi alla fine più o meno era meno sempre quei numeri lì posto che comunque 85.000 uomini fanno ridere non sono assolutamente sufficienti a difendere l'Ucraina e continuavano ovviamente ad esserci richieste tipo che l'Ucraina dovesse avere armi di lunga gittata o ridurre la propria dotazione di armamenti anticarro e via dicendo quindi di fatto il bozza del 15 aprile è un'evoluzione rispetto a quella di un mese prima ma continuava ad avere diciamo tutti i problemi di cui parliamo ecco e si può dire che insomma sia come dire sia un'evoluzione ma è un'evoluzione veramente limitata tanto da aver fatto pensare e far pensare come dire che sia un'evoluzione talmente limitata da essere di fatto praticamente identica se non che c'è la scusa di dire che c'è stata un'evoluzione nelle negoziazioni in qualche modo e come si vede la rigidità qua rimane molto da parte russa cioè questa è una cosa che va evidenziata sì perché si insiste su questioni culturali che non sono strategiche e soprattutto l'insistenza su punti che sono esclusivamente di politica interna ucraina tipo la lingua l'educazione la giustizia eccetera è legittimo pensare se uno guarda tutto questo che le negoziazioni fossero quasi una farsa da un certo punto di vista cioè nel senso da parte russa c'è bisogno soprattutto a seguito del fallimento nel proprio tentativo di prendere Kiev e via dicendo da parte russa c'è una necessità di cambiare la narrazione e dire noi siamo quelli disposti a negoziare su questa questione è l'Ucraina che non vuole negoziare da parte ucraina c'è comunque la necessità di dire vabbè anche se sappiamo che le negoziazioni non portano da nessuna parte dobbiamo mostrare che siamo disposti e magari riusciamo a comprare tempo in questo modo quindi è legittimo pensare che le parti non credessero davvero alle negoziazioni e che lo usassero legittimamente come una forma di strategia in questa situazione non solo come viene anche osservato da Sageratchenko e Samuel Chara sul loro articolo su foreign affairs che viene spesso citato in questo tema il difetto principale di questa formula era che cercava come dicono loro loro stessi dicono metteva il carro davanti ai buoi e cioè diceva cercava di risolvere o meglio cercava di stabilire un ordine di sicurezza post bellico prima di cercare di mettere fine alla guerra cioè la bozza del trattato si preoccupa di entrare nei dettagli degli assetti politici e geopolitici che avrebbero fatto seguito alla fine del conflitto ma non propone un approccio credibile per risolvere quel conflitto per mettere fine all'ostilità per mitigare e cessare l'ostilità in corso la questione dei territori anche quella rimaneva irrisolta cioè non è dire questo trattato riguarda solo la questione della neutralità e della galanzia di sicurezza quella territoriale verrà risolta da Putin e Zelensky in un loro incontro non è una soluzione è semplicemente come si dice è rinviare ad un futuro quello che è davvero uno dei problemi principali assumendo che per qualche ragione un incontro tra Putin e Zelensky avrebbe risolto il problema cosa che non è particolarmente incoraggiante diciamo quindi c'era tutta una serie di criticità in questa cosa che trovava scettici peraltro sia le controparti russe che quelle occidentali no? ovviamente e non solo la credibilità delle garanzie occidentali era estremamente debole nel senso che a questo punto fino alla pubblicazione del comunicato di Istanbul nessun paese che avrebbe dovuto fare garante all'Ucraina aveva espresso la propria disponibilità a fare da garante non solo nessun paese era nemmeno stato chiesto di fare da garante e quando il comunicato era comparso gli Stati Uniti avevano subito fatto sapere che loro non erano disposti di fare da garante una cosa che li avrebbe portati in guerra con la Russia in quelle situazioni quindi anche da questo punto di vista è proprio tutta la struttura del trattato che era estremamente debole e avrebbe se uno se uno lo guarda nel complesso era davvero difficile pensare che avrebbe potuto avere successo in questo contesto lo si può anche vedere come realistico da parte ucraina la pretesa della garanzia della chiusura dello spazio aereo e della garanzia militare proprio perché era realistico come dicevi fin da prima nel senso che le forze occidentali non hanno mai garantito al di là della promessa neanche nel contesto della fine dell'Unione Sovietica garanzie di tipo effettive militare né appunto e il discorso insomma il tema che c'è stato durante l'invasione all'inizio dell'invasione era quello di coprire lo spazio aereo è un tema di cui si è parlato nel senso che l'Ucraina lo ha richiesto ma che non è mai stato veramente affrontato quindi lo stesso Johnson Boris Johnson che è stato uno dei protagonisti diciamo di supporto di queste negoziazioni come dire lo spieghi anche nell'articolo sono state riprese le sue dichiarazioni che come dire che lo dipingerebbero come colui che ha da parte occidentale ostacolato le negoziazioni quando in realtà quello che Johnson diceva è queste richieste agli occidentali sono irrealistiche per la capacità politica che hanno i governi occidentali di accettarle cioè quello di fare una garanzia militare reale ma d'altra parte ti domando quindi stiamo dicendo in qualche modo mi sembra come uno dei punti dei fili rossi del tuo articolo è che gli ucraini hanno come fondamentale requisito per diciamo il cessato del fuoco per la fine delle ostilità una garanzia militare da parte degli stati occidentali che gli stati occidentali non sono mai stati disposti a dare e quindi in questo consenso in realtà appunto il ruolo dell'occidente non è tanto quello di forza che ha fatto fallire i negoziati ma forza il cui disimpegno di fatto rende impossibile arrivare a delle conclusioni di negoziati accettabili per l'Ucraina perché senza delle garanzie l'Ucraina può soltanto subire dei negoziati e non può davvero essere parte attiva che accetta in negozia esatto ovviamente la questione è che la parte occidentale sono ancora meno disposte a fornire garanzie in un contesto in cui la Russia chiaramente esprime nella negoziazione posizioni estremamente massimaliste perché questo mostra chiaramente che c'è un interesse da parte russa nella prosecuzione del conflitto non nella prosecuzione del conflitto nel tentativo di controllare l'Ucraina nel futuro perché altrimenti la Russia non avrebbe nessuna ragione se quello che la Russia volesse è davvero una pace con l'Ucraina è una cessazione delle ostilità la Russia non avrebbe alcun interesse a chiedere praticamente il disarmo ucraino invece chiaramente se chiede il disarmo ucraino è perché c'è un interesse nel lungo periodo di controllare l'Ucraina che è sempre stato un po' l'interesse russo più di in passato anche prima del 2014 l'interesse russo non è necessariamente quello di conquistare l'Ucraina militarmente ma di controllarla indirettamente nello stesso modo di controllare la Bielorussia di fatto idea di un paese neutrale quando la Russia dice l'Ucraina dovrebbe essere un paese neutrale non sta pensando all'Austria o all'Irlanda sta pensando alla Bielorussia come idea di paese neutrale esattamente e siccome citavi la figura di Boris Johnson sì Boris Johnson viene spesso accusato in questo contesto di essere stata la persona che avrebbe ucciso il trattato andando a Cave il 9 aprile è stato il primo leader occidentale ad andare a Cave e che avrebbe costretto l'Ucraina a rinunciare a questo trattato in realtà quello che emerge è che Johnson avrebbe semplicemente detto a Zelensky che appunto queste garanzie non erano realistiche e che quindi l'Ucraina se avesse accettato tutto questo si sarebbe trovato in una posizione ancora più vulnerabile perché ovviamente l'altra cosa che la Russia chiedeva era la cessazione degli aiuti militari occidentali ovviamente senza aiuti militari occidentali con forze armate ridotte senza garanzie di sicurezza come fa l'Ucraina a difendersi dalla nuova aggressione russa o chiaramente impossibile quindi in realtà Johnson avrebbe semplicemente comunicato a Zelensky guarda non c'è possibilità di ottenere questo tipo di garanzie in questa situazione l'idea che Johnson sia responsabile della diciamo del naufragio di questa trattativa viene dalle dichiarazioni di David Arachamia David Arachamia è il leader della maggioranza parlamentare l'Ucraina quindi è un debutato del partito di Zelensky seguitore del popolo ed è diciamo il capogruppo del partito della maggioranza e in una sua intervista nel novembre 2023 sulla TV Ucraina secondo chi sostiene la tesi del sabotaggio occidentale Arachamia avrebbe detto eravamo praticamente vicini a un trattato ma poi Boris Johnson è venuto a Kiev ci ha detto no il trattato non si fa dobbiamo continuare a combattere invece se si ascolta bene l'intervista e non si estrapolano 15 secondi dal contesto di un'intervista che è di più di un'ora in cui Arachamia ribadisce tutte le ragioni per cui le negoziazioni dal suo punto di vista non avrebbero avuto successo cioè lui proprio dice ero alle negoziazioni ma avevo l'idea che queste negoziazioni non avrebbero avuto successo ma se si ascolta con attenzione quello che dice lui dice una cosa diversa e cioè non dice che Johnson avrebbe detto all'Ucraina di non firmare il trattato avrebbe semplicemente detto come abbiamo già ribadito che non c'era da parte occidentale la disponibilità di dare queste garanzie di sicurezza all'Ucraina cioè non c'era la disponibilità da parte occidentale di rischiare un confronto armato con la federazione russa e quindi questa sia la questione di fondo come abbiamo già ribadito un altro cavallo di battaglia della narrazione della pace sabotata sono le dichiarazioni di Alexander Ciali che è un diplomatico ucraino che secondo questa narrazione avrebbe detto al Geneva Center for Security Policy in una conferenza avrebbe detto che le negozioni sarebbero state diciamo bloccate dai paesi occidentali ancora una volta se uno guarda davvero il video di questa conferenza Ciali dice questo è esattamente quello che dice Ciali Ciali dice a metà fine aprile eravamo vicini a finalizzare un accordo di pace ma per diverse ragioni fu rinviato questo è tutto quello che viene detto da Ciali quindi è difficile estrapolare da questa frase tutte diciamo le costruzioni su come ci sarebbe stato un sabotaggio cindale lui dice semplicemente che per varie ragioni fu rinviato e poi nel corso dell'intervista non rientra a spiegare perché anzi nel resto della conferenza dice parla dell'importanza per l'Ucraina di entrare nella Nato e via dicendo qui c'è l'elemento che Ciali era noto per aver espresso in passato la contrarietà sull'ingresso dell'Ucraina nella Nato è un soggetto abbastanza discutibile in Ucraina nel senso che in passato era noto per essere stato contrario all'ingresso ucraino nella Nato e anche nell'Unione Europea l'idea che fosse membro delle negoziazioni aveva stato non poco diciamo malumore in Ucraina l'idea però il fatto che fosse lì era legato al fatto che era stato presente in diverse sede di negoziazioni con la Federazione Russa di altri trattati è un diplomatico di lungo corso che aveva partecipato ad altre negoziazioni probabilmente l'idea era che fosse utile averlo coinvolto piuttosto che no ma non solo se accettassimo la dichiarazione di Ciali che dice molto poco come buona dobbiamo accettare anche quella di tutti quegli altri che dicono che non era così e quindi se accettiamo quella logica non si esatto qua è totalmente adesso lo chiarisco per chi appunto è meno addentro a questo tema delle negoziazioni cioè quello è proprio il cherry picking cioè la parte di narrativa se non la vogliamo chiamare propaganda russo diciamo una narrativa che vede l'Ucraina come responsabile del fallimento dei negoziati tende a selezionare quegli elementi cioè in realtà le dichiarazioni di Arakamia e di Ciali in particolare e poi alcune dichiarazioni di leader occidentali come segno diciamo della come possiamo dire o della malafede occidentale o della malafede ucraina tutte le altre evidenze sia di politici occidentali di tutti i primi ministri il primo ministro francese Naftali Ben ex primo ministro israeliano eccetera che parlano specificamente sia della malafede russa sia dell'irrealisticità proprio dell'assenza di garanzia di sicurezza cioè qui cito in 30 secondi ne parla Ludovico nell'articolo che Bennett proprio in lungo e in largo ha spiegato di aver parlato con Zelensky dicendo non avete nessuna condizione di garanzia di fatto e quindi come fate ad accettare no le condizioni di questi negoziati quindi ecco se vogliamo anche Israele ha avuto un ruolo in questo ma esattamente come ogni primo ministro ha fatto dichiarazioni pubbliche sicuramente ha fatto dichiarazioni private con Zelensky e o con Putin ma il mosaico che ne esce è che sostanzialmente cioè è difficile dire che la maggioranza avesse ridesse nelle condizioni del trattato quello che emerge è che la maggioranza delle persone almeno ucraini e occidentali e gli israeliani non avessero fiducia nelle condizioni del trattato e quindi perché avrebbero dovuto averlo fai bene a citare Bennett chi ci ascolta Naftali Bennett era il primo ministro israeliano fino al giugno del 2022 prima del ritorno di Benjamin Netanyahu Bennett era l'unico diciamo leader del blocco occidentale se vogliamo chiamarlo così che aveva la possibilità di parlare sia con Putin che con Zelensky o meglio l'unico oltre a Erdogan ovviamente e in questo va precisato che Bennett era abbastanza estraneo al contesto politico russo prima di tutto se guardate la storia di Bennett è qualcuno che non ha un background in ambito di politica internazionale eccetera se andate a vedere un po' la sua storia personale viene da tutt'altro mondo ma al di là di questo per sua stessa missione diceva di non essere particolarmente a conoscenza dei dettagli della storia e del contesto politico russo-ucraino non era mai stato in Russia non era mai stato in Ucraina non era mai stato in Germania nemmeno racconta in questa lunga intervista con Anok Naum in cui parla del suo ruolo improvvisato da negoziatore nonostante poi dica di essersi informato sui temi per cercare di svolgere questo ruolo non solo lui dice dice anche esplicitamente che tutto il corso delle negoziazioni su cui lui svolgeva di fatto su un binario parallelo l'intermediario tra Putin e Zelensky cioè quello che al telefono con Zelensky sentiva quello che diceva Zelensky e poi al telefono con Putin sentiva cosa diceva Putin e riferiva lui stesso dichiarava che la sua posizione era anche quella ovviamente dell'interesse dello Stato di Israele e lui dice esplicitamente l'interesse israeliano non era allineato a quello ucraino europeo statunitense in questo perché diceva che la capacità israeliana di operare in Siria ad esempio e di effettuare i propri attacchi sulla presenza iraniana in Siria sarebbe stata compromessa se la Russia avesse decisamente deciso di usare la propria la propria contraere in Siria per abbattere i getti israeliani quindi in realtà dal suo punto di vista era più era la posizione di Israele era una terza posizione tra i due quindi chiaramente veniva da questo punto di partenza e Bennett proprio dopo anche per il fatto di avere questo canale con Putin e Zelensky viene sollecitato sia da Zelensky che poi dal cancelliere tedesco Schultz e dal presidente Francesco Macron di diventare una sorta di appunto collegamento tra i due ha detta di bene il risultato di questa sua negoziazione fra i due che era in parallelo a quella dei trattati che abbiamo discusso sarebbe stato di ottenere da Putin la garanzia di nei primi giorni dell'invasione la garanzia di non assassinare Zelensky anche qui se uno si fida di Putin chiaramente sì magari è qualcosa e di aver convinto parlando con Zelensky di averlo convinto di rinunciare all'ingresso nella Nato in cambio invece di garanzie di sicurezza quando però viene chiesto a Bennett il cosiddetto sabotaggio occidentale ancora una volta qui si estrapolano pochi secondi di un'intervista di 5 ore o qualcosa del genere in cui Bennett avrebbe detto che le trattative sono state bloccate in realtà se uno ci si è resi conto che è il frutto di una traduzione non particolarmente accurata Bennett dice che le trattative a un certo punto si sono fermate non sono state bloccate quindi c'è un'accezione diversa e quando gli viene chiesto qual è la tua percezione di questa cosa lui dice all'epoca pensai fosse un errore ma con il segno di poi credo sia troppo presto per dirlo credo che vi fosse la possibilità di raggiungere un gesto del fuoco ma con il segno di poi non sono sicuro sarebbe stata la cosa giusta quindi anche l'idea che Bennett abbia detto ripetutamente c'era un accordo pronto ed è stato bloccato non è vero lui stesso dice si è fermato probabilmente per le ragioni che abbiamo discusso cioè l'incompatibilità delle posizioni e lui stesso dice io pensavo che ci fosse una possibilità coseno di poi non lo so gli Stati Uniti ad esempio dicevano è una perdita di tempo non ha neanche senso provarci a detta sua quindi ancora una volta l'idea che ci sia questa chiarezza su questo punto non è affatto vera esatto anzi poi l'impressione è che i più come dire i più accangili sostenitori della possibilità di un compromesso mano a mano hanno visto proprio sgretolarsi la possibilità di questo compromesso e forse Bennett ne è proprio l'esempio cioè ripeto come diceva Ludovico Bennett aveva un interesse diverso credo che le vicende recenti diciamo almeno dell'ultimo anno mostrino quanto non necessariamente allineati siano le posizioni e le prospettive del governo israeliano rispetto a quelle diciamo occidentali ma in particolare in questo caso c'era lo scacchiere siriano esatto quindi credo che già in questo ultimo anno passato qualcosa ci dovrebbe spiegare ma già all'epoca insomma conoscendo lo scacchiere siriano si poteva capire che le posizioni non erano cioè non c'è l'Occidente e la Russia e anzi Israele rappresentava proprio la terza posizione una delle più interessate così come lo è anche la stessa Turchia nonostante sia un membro nato no? Sì Tant'è che la Turchia è stato uno dei facilitatori delle negoziazioni è una posizione molto più ambigua se vogliamo e di mediatore ancora più forte rispetto a Israele ma proprio perché insomma ci dobbiamo avviare alla conclusione proprio perché appunto hai citato su queste ultime dichiarazioni di di Bennett sul non sono sicuro che sarebbe stata la cosa giusta chiudo con una domanda sarebbe stato meglio per l'Ucraina come appunto si intitola poi in realtà il tuo ultimo paragrafo accettare le condizioni del negoziato? Allora la prima questione la prima cosa da dire è che ovviamente quella domanda io la pongo quasi in termini retorici nel senso che è una domanda malposta in un certo punto di vista perché i termini di cui i negoziati non dovrebbero essere confrontati con quella che può essere la situazione attuale quando un conflitto è ancora in corso ma quelli di un negoziato futuro che possibilmente in un futuro possa portare alla fine del conflitto quando il conflitto sarà finito e sapremo quali sono le condizioni potremo confrontare le due e dire sono migliori sono peggiori quindi questa è la prima osservazione da fare per confrontare diciamo mele con mele non mele arance diciamo in secondo luogo è comunque possibile fare una serie di considerazioni una che viene spesso fatta è l'Ucraina ha perso più territorio no? cioè l'Ucraina ha continuato a perdere territorio se se il se fossero accettate le trattive dell'epoca la situazione era migliore per l'Ucraina se guardiamo alla verità non è particolarmente vero nel senso che ai tempi della negoziazione la Russia controllava il 26% del territorio ucraino a marzo e il 20% in aprile ad oggi controlla il 18% nonostante sia vero che nell'ultimi mesi l'avanzata russa sul fronte meridionale di Donetsk siano state particolarmente preoccupanti e da parte Ucraina c'è una grande difficoltà a stabilizzare il fronte orientale tuttavia non è possibile sostenere che oggi la Russia controlli più territorio di quanto controllava i tempi delle trattative e posto che ovviamente in queste dinamiche il territorio è la cosa più facile da osservare ma non è sempre l'indicatore più rilevante per capire la traiettoria di un conflitto quindi questa è semplicemente una considerazione sui territori perché viene fatta da altri l'altra cosa è che con l'eccezione di alcuni degli armamenti anticarro che sono diventati famosi come i Javelin i Enlos eccetera all'epoca delle negoziazioni l'Ucraina non aveva ricevuto buona parte del sostegno militare degli aiuti militari che ha sostenuto fino ad oggi cioè tutte le cose di cui abbiamo parlato per gli ultimi anni da leopards i F-16 i Heimars tutti gli armamenti occidentali che sono arrivati ai Patriots la difesa antiaerea semplicemente a RST e via dicendo tutte queste cose l'Ucraina non le aveva nel marco è per quello che sono diventati i famosi i Javelin perché se fosse arrivato tutto insieme probabilmente dei Javelin non si sarebbe neanche parlato ovviamente perché sono la cosa più piccola diciamo meno significativa ma se l'Ucraina avesse accettato i termini di quella trattativa si avrebbe trovata con delle forze armate che pari al 5% delle attuali senza tutto il sostegno occidentale che ha ottenuto fino adesso quindi ancora più incapace di difendersi e anche sul fronte politico economico se ci pensiamo un momento tutte le decisioni di sostegno all'Ucraina dalla candidatura all'entrata nell'Unione Europea ai vari pacchetti di aiuti finanziari che l'Ucraina ha ricevuto dall'Unione Europea e da altri paesi sono tutte cose che si sono sviluppate nei mesi e anni successivi è difficile pensare e questo dico da persona che pensa che il sostegno che i paesi occidentali ed europei hanno dato all'Ucraina sia assolutamente non sufficiente fino adesso ma non possiamo perubricarlo a nulla cioè i paesi l'Europa e gli Stati Uniti hanno comunque dato enorme aiuto militare finanziario e umanitario all'Ucraina possiamo ovviamente di giorno in giorno discutere sul fatto che non è abbastanza non è sufficienza non è abbastanza rapido non arriva nel momento giusto su tutto questo possiamo discutere e essere d'accordo ma non si può negare diciamo la dimensione di tutto questo è difficile immaginare che se l'Ucraina avesse accettato queste condizioni che di fatto equivalevano a una quasi capitolazione nei confronti della Russia cioè al fatto per esempio di modificare la propria legislazione interna in favore della Russia rinunciare ai propri territori rinunciare alla propria capacità di difendersi è difficile immaginare che tutte queste cose sarebbero avvenute perché i paesi europei e gli Stati Uniti li avrebbero preso come un segno che l'Ucraina non era interessata a entrare nel blocco occidentale avrebbero preso come un segno che l'Ucraina alla fine rimane sotto la zona di influenza russa quindi tutto questo tutto questo che è stato fatto dai paesi occidentali in suo segno all'Ucraina non va preso per scontato è una conseguenza del fatto che quelle condizioni delle negoziazioni del 2022 non sono avvenute quindi questo va assolutamente secondo me tenutamente e l'ultimo punto forse che ovviamente molti porterebbero da un punto di vista quasi pseudo-umanitario alcuni potrebbero dire beh al di là di tutto questo però se ci fossero state quelle condizioni all'epoca ci sarebbe risparmiata la morte di decine di migliaia di ucraini civili militari eccetera ora questa considerazione è un po' ambigua nel senso da questo punto di vista allora si potrebbe dire se la Russia non avesse invaso l'Ucraina ci sarebbe risparmiata la morte di centinaia di migliaia di ucraini e questo includiamo anche tutti i russi che sono morti nella guerra capito quindi è una considerazione un po' pelosa secondo me ma al di là di questo in realtà il problema di questa considerazione è che da un certo punto di vista in un'Ucraina commessa alla Russia ci sarebbero comunque state enormi violazioni dei diritti umani e della libertà eccetera quindi l'idea che sarebbe stato tutto bello e felice ovviamente è una mancata tutela di minoranze è certo che magari non è paragonabile alla distruzione e alla morte inflitta da un conflitto in corso chiaramente ma questo è talmente vero che uno degli elementi per esempio della campagna elettorale georgiana da parte del sogno georgiano che è il partito che poi si è affermato partito che spesso viene considerato filo russo anche se la cosa è una semplificazione un po' eccessiva dato che non abbiamo parlato sei con Nonna Michelizze sia in un'altra puntata che uscirà in questi giorni con Anna Zafieso ma diciamo il partito diciamo filo russo qui lo semplifico nella sua campagna diceva proprio vogliamo finire come l'Ucraina vogliamo finire come le città in macerie ucraine proprio rispetto alla posizione della Georgia nei confronti della Russia quindi è diventato un argomento come dire per il compromesso con la Russia a quello che è successo in Ucraina dal punto di vista dell'Ucraina però è difficile dire e sarà difficile dire non avendo un controfattuale quanto potesse essere giustificata questa praticamente quasi totale cessione della sovranità nazionale noi però lo sappiamo che è la Bielorussia nel senso esatto non era Georgia il paese forse più simile alla Bielorussia anche culturalmente e le condizioni umanitarie in Bielorussia le conosciamo il fallimento insomma nel 2020 delle rivolte in Bielorussia lo conosciamo e le violazioni dei diritti umani in quel contesto le conosciamo quindi il punto è che l'Ucraina ha evitato anche quel destino nel suo passato e non intende tornarci poi qui è dove ci si allontana dai fatti e si torna nelle interpretazioni diventa difficile un fatto sul terreno ce l'abbiamo è che gli ucraini in quel momento vista anche l'altissimo tasso di approvazione delle forze armate e all'epoca anche del presidente non ci fosse intenzione di cedere in quel momento e anche adesso comunque sia i sondaggi non indicano una propensione ad accettare quel tipo di accordi semmai inizia a esserci una stanchezza tale per cui c'è il compromesso sul territorio o le aspettative sul recupero territoriale che iniziano diciamo un po' a crollare in alcuni sondaggi ma riprendiamo le condizioni iniziali di quegli accordi non erano il compromesso sul Donbass o sulla Crimea ripeto fatti che erano già sul terreno nel 14 ma era la capitolazione sulla politica interna anche no culturale linguistica esatto sul discorso delle garanzie assolutamente e soprattutto come tu confronto sì l'idea che la Russia aveva di un'Ucraina neutrale era la Bielorussia quindi tenete che è un paese che fino diciamo al 24 di febbraio 2022 era un paese senz'altro più autoritario della Russia stessa se guardiamo nelle condizioni di vita all'interno del paese tanto per darci l'idea di cosa stiamo parlando ma al di là di quello poi il problema di questo tipo di argomento è che la conseguenza logica è che allora in qualsiasi situazione in cui un paese si trovi invaso da un altro la soluzione è quella di arrendersi e rinunciare alla solennità del paese per evitare la morte e la distruzione che un conflitto e un'invasione porta ovviamente un piano di ragionamento che non può stare in piedi nel senso che questo crea ovviamente un incentivo da parte di chiunque a invadere i propri vicini o non vicini nell'idea che la cosa migliore da fare in quel caso sia arrendersi semplicemente è un'idea completamente assurda e come hai detto tu è un'idea proprio che poi non era appoggiata o accettata dalla stragrande maggioranza della popolazione ucraina allora come oggi nonostante magari la posizione sui dettagli di come un accordo con la Russia potrebbe essere fatto sono cambiate magari leggermente ma l'idea di una completa capitolazione che era quello che era descritto da questi trattati non è accettata praticamente quasi da nessuno è importante sottolineare che chi manda avanti questa narrazione della pace sabotata tende ad edulcorare i contenuti di quel trattato cioè lo vuole far sembrare molto più favorevole all'Ucraina di quello che fosse esatto e anche se si arrivasse una situazione diciamo da quando Trump a gennaio prenderà ufficialmente la carica se anche se arrivasse a un momento in cui vengono un po' forzati negoziati e si arriva a un compromesso comunque pesante per l'Ucraina con tutta probabilità le condizioni di questo compromesso non saranno la denavisificazione il russo come lingua ufficiale la totale mancanza di garanzie eccetera eccetera perché a quel punto che andrebbe anche della credibilità di Trump quindi è molto probabile poi lo vedremo non voglio chiudere con una previsione ma è considerando l'enormità delle condizioni iniziali poste dai russi è molto probabile che un qualsiasi negoziato che arrivi come ci si aspetta e come è stato detto nel 2025 sia su punti molto meno pesanti rispetto a quelli iniziali e in questo contesto qui se accadrà questo come dire il rifiuto di quei negoziati assume come dire un senso in questo senso purtroppo anche il sacrificio di decine di miglia di ucraini quindi lo giudicheremo alla fine cioè il problema è che non possiamo giudicarlo ora diventa come si dice è difficile fare previsioni soprattutto sul futuro quindi evitiamo in questo evitiamo magari quello che possiamo fare è prometterci che in un futuro non sappiamo quando sarà io penso che non sarà così vicino e così rapido quanto alcuni sembrano pensare quando ci sarà una qualche forma di accordo potremmo tornare e confrontare le condizioni di quell'accordo con quelle dell'accordo delle discussioni della primavera 2022 confrontare fra di loro e vedere le differenze vedere anche cosa è cambiato in Ucraina nell'arco di quei non sappiamo quanti anni che sono passati nel frattempo non solo in Ucraina ma anche nel resto del mondo quindi quello forse sarà diciamo un modo valido per avere una discussione su quello che avrebbe potuto essere meglio per l'Ucraina quello che abbiamo fatto in questo video che fa l'articolo che io invito ovviamente a leggere e a condividere per chi fosse interessato o a confutare se qualcuno ha idee diverse è mostrare come quest'idea che ci fosse un accordo pronto nella primavera che sia stato sabotato a spese dell'Ucraina perché Stati Uniti Regno Unito eccetera avevano un interesse a fare una guerra per procura nei confronti della Russia è estremamente lontano dalla realtà non abbiamo alcun dato che ci porta a pensare tutto questo questa diciamo è la questione principale da tenere a mente esatto quindi consiglio veramente a tutti di andare anche a recuperare le fonti di legge e l'articolo perché credo insomma che sia fondamentale per poter affrontare i prossimi mesi in cui appunto si parlerà di Ucraina e si parlerà di negoziati perché insomma ci aiuta a tenere un pochino di punti fermi quindi io ringrazio di nuovo Ludovico come diceva lui insomma chi non è d'accordo chi non è convinto sulle fonti argomenti nei commenti poi come diciamo sempre ci si può anche confrontare insomma in altre sedi ma spesso non troviamo insomma tanta disponibilità dall'altra parte mettete like commentate se ci sono richieste di ulteriore approfondimento ci lavoreremo anche se questo lavoro di Ludovico ha richiesto mesi insomma non è un lavoro che si fa in una serata perché è un lavoro di comparazione di fonti di lettura di fonti ufficiali di documenti che insomma e ricordiamo anche che noi non lo facciamo neanche di lavoro questa cosa quindi a maggior ragione complimenti Ludovico ma riteniamo che sia importante a volte mettere alcuni punti fermi proprio perché insomma a volte insomma c'è una parte della stampa che non lo fa abbastanza o anzi come insomma emerge emergeva anche in alcuni giornali di oggi anche se non vado nei dettagli c'è una rappresentazione continua del governo ucraino come regime prepotente che non vuole negoziare o degli stati occidentali come i grandi burattinari ringrazio di nuovo Ludovico invito tutti a seguire anche i futuri contenuti della redazione ucraina ricordo che sono stati fatti altri contenuti sul diciamo i possibili scenari con Trump questo qua era più di carattere diciamo storico e ricostruttivo la rubrica estranei con Anna Zafiesova dove appunto parliamo anche di possibili scenari sull'est Europa con la presidenza Trump e il video con Mauro e Andrea Gigli appunto dove ci interroghiamo in maniera un po' più ampia su qual è la politica estera che ci aspettiamo da Trump era un video fatto prima delle elezioni ma molte delle considerazioni sono valide tutt'oggi quindi di nuovo ringrazio Ludovico ringrazio gli spettatori che ci hanno seguito grazie a tutti e alla prossima arrivederci grazie a te Andrea